...e un certo Leopold Müller, austriaco, viene qua, fa i suoi viglieri, affiancato appunto da Edoardo Semenza, che non solo avvalora la tesi di Semenza, ma l'amplifica. Per lui poteva staccarsi una massa dai 100 ai 200 milioni di metri cubi. Allorché, andiamo avanti col tempo, la Sade dopo la prima frana, se questi due avevano ragione, se ci fosse realmente la possibilità che scendesse una massa così enorme, ci chiude la vallata, non abbiamo più la possibilità di arrivare al vaccino a monte. Qua ragazzi abbiamo fatto la diga per niente, non è possibile, salviamo e salviamo. Scaviamo un tunnel che poi verrà, appunto chiamato il bypass, andiamo verso monte per un paio di chilometri, se questa benedetta frana scenderà, si appoggerà sopra il tunnel, ci rimetteremo valori di tutti i milioni di metri cubi a valle che non abbiamo utilizzato, ma almeno l'impianto, seppur ridotto, possiamo consegnarlo all'Enel o allo stato come volete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.